cari carissime studentesse e studenti a tutti buongiorno oggi vediamo un argomento che riguarda la grammatica italiana che si intitola gli aggettivi possessivi alla forma singolare in questa lezione impariamo 1 la funzione degli aggettivi possessivi 2 l'accordo degli aggettivi possessivi 3 l'uso dell'articolo con gli aggettivi possessivi ma prima di vedere tutto quanto io vi invito ad osservare la seguente immagine allora che cosa rappresenta questa immagine una famiglia giusto una famiglia italiana o marrochina una famiglia italiana secondo voi questa famiglia vive in italia o all'estero che lavoro fa il padre cosa fa la madre come professione cosa studiano e loro figli per rispondere a tutte queste domande andiamo a leggere insieme il testo seguente che si intitola la famiglia di andrea ecco il testo da leggere mi chiamo andrea sono insegnante di matematica la mia famiglia si compone da cinque persone mia moglie francesca e tre figli mia moglie lavora come medico siamo italiani e viviamo a firenze mia moglie ha 48 anni io invece ne ho 53 mia figlia giovanna a 25 anni e studia farmacia all'università di firenze federica a 20 anni e studia lettere all'università di pisa mio figlio luca invece ha 15 anni e frequenta l'istituto tecnico non vive con noi ma con i suoi nonni a milano ora sono in vacanza a casa dei miei insieme alla mia famiglia ora andiamo a fare le domande di comprensione la domanda dice segna con una croce se queste affermazioni sono vere o false vediamo le affermazioni allora la prima affermazione andrea lavora come insegnante di lingue vero o falso la seconda affermazione la moglie di andrea è un ingegnere vero o falso la terza affermazione giovanna studia medicina all'università di firenze vero o falso la quarta e l'ultima affermazione andrea vive a casa dei suoi genitori a milano vero o falso allora si va a correggere questa parte riguardante la comprensione allora la prima affermazione andrea lavora come insegnante di lingue vero o falso falso perché nel testo abbiamo la giustificazione seguente mi chiamo andrea sono insegnante di matematica e quindi andrea non lavora come insegnante di lingue ma insegna la matematica la seconda affermazione la moglie di andrea è un ingegnere vero o falso falso perché nel testo c'è scritto mia moglie lavora come medico quindi la moglie di andrea non è un ingegnere ma lavora come medico perfetto la terza affermazione falsa quindi giovanna studia medicina all'università di firenze perché nel testo abbiamo la seguente affermazione o giustificazione quindi mia figlia giovanna a 25 anni e studia farmacia all'università di firenze l'ultima affermazione andrea vive a casa dei suoi genitori a milano vero o falso falso perché nel testo c'è una frase che giustifica questo è la seguente ora sono in vacanza a casa dei miei insieme alla mia famiglia quindi andrea non vive a casa dei suoi genitori a milano ma è solo in vacanza da loro perfetto allora cari carissimi studentesse e studenti ora vi invito ad osservare le parole che sono evidenziate in rosso nel testo quindi abbiamo la prima parola la mia famiglia la seconda parola mia moglie la terza parola mia figlia la quarta e l'ultima parola mio figlio allora come si chiamano questi in italiano in francese come si chiamano gli aggettivi possessivi perfetto in italiano si chiamano gli aggettivi possessivi quindi ora vediamo la funzione degli aggettivi possessivi e iniziamo con questa domanda a cosa servono gli aggettivi possessivi e cosa indicano la risposta è gli aggettivi possessivi indicano a chi appartiene una cosa un animale o una persona e si riconoscono facilmente si rispondono alla domanda per esempio la mia penna è nuova quindi la penna di chi la mia penna significa non è la tua è la mia penna perfetto ora vediamo qualche esempio allora prendiamo questo esempio che abbiamo tratto dal testo mio figlio luca a 15 anni allora qui abbiamo usato l'aggettivo possessivo mio perché è il nome che indica questo aggettivo possessivo è un nome maschile singolare e quindi l'aggettivo possessivo mio si accorda con il nome figlio e quindi anche questo aggettivo possessivo al maschile singolare come figlio perfetto ora passiamo al secondo esempio mia figlia giovanna studia farmacia allora in questa frase abbiamo il nome figlia che è un nome femminile singolare e quindi per motivi di concordanza anche l'aggettivo possessivo mia è al femminile singolare per cui in italiano per esempio non posso dire mio figlia è sbagliato dico mia figlia perché figlia è un nome femminile singolare perciò anche l'aggettivo possessivo dovrebbe essere al femminile singolare come dice anche la regola quindi gli aggettivi possessivi si concordano al genere cioè quando diciamo il genere significa il maschile o il femminile o al numero cioè singolare o plurale dell'oggetto o della persona che indicano perfetto ora vediamo gli aggettivi possessivi aggettivi possessivi alla forma singolare quindi per quanto riguarda la prima persona singolare io diciamo mio per esempio mio figlio mio figlio si chiama luca per il femminile diciamo mia per esempio mia figlia per la seconda persona singolare ciù diciamo ciù per il maschile ciù per il femminile per la terza persona singolare lui lei diciamo suo per il maschile invece per il femminile diciamo sua per la prima persona plurale noi diciamo nostro per esempio il nostro figlio si chiama andrea per il femminile diciamo nostra per la seconda persona plurale voi diciamo vostro per il maschile invece per il femminile diciamo vostra infine per la terza persona plurale loro quindi diciamo loro sia per il maschile che per il femminile e quindi rimane invariabile perfetto ora andiamo a vedere questi esempi iniziamo con il primo esempio la mia macchina è rossa il suo cane è molto bello il mio libro di matematica allora che cosa osservate dopo l'aggettivo o prima dell'aggettivo possessivo allora prima dell'aggettivo possessivo noi abbiamo usato un articolo vedete un articolo determinativo quindi diciamo la mia macchina il suo cane è il mio libro quindi gli aggettivi possessivi in italiano hanno bisogno dell'articolo determinativo per esempio il mio libro in italiano non posso dire mio libro come il francese francese sì posso dire mon livre invece in italiano no bisogna sempre usare l'articolo determinativo quindi dico il mio libro la mia penna il tuo telefono la tua macchina perfetto ora passiamo a al quarto e al quinto esempio allora mia moglie si chiama francesca mio figlio si chiama roberto quindi la domanda che vi faccio perché in queste due frasi cioè la frase numero 4 e la frase numero 5 non abbiamo usato l'articolo determinativo in altre parole cosa sono moglie e figlio giusto sono nomi di famiglia sono nomi di parentela come padre come madre come figlio eccetera quindi con i nomi di famiglia quindi con i nomi di famiglia moglie e figlio al singolare non usiamo l'articolo determinativo come nelle prime esempio abbiamo detto la mia macchina è rossa qui non abbiamo detto la mia moglie perché perché moglie è un nome di parentela singolare come figlio ok però nella sesta frase abbiamo detto il loro fratello fa il professore perché qui abbiamo usato l'articolo determinativo anche se fratello è un nome di famiglia singolare bravi giusto perché qui abbiamo l'aggettivo possessivo loro quindi con l'aggettivo possessivo loro usiamo sempre l'articolo determinativo solo in questo caso quando abbiamo loro come aggettivo possessivo invece per gli altri aggettivi possessivi con i nomi di famiglia non usiamo l'articolo determinativo e questo è quello che dice la regola con i nomi di parentela al singolare gli aggettivi possessivi non prendono l'articolo per esempio diciamo mio fratello in italiano non posso dire il mio fratello è sbagliato dico mio fratello senza l'uso dell'articolo tua sorella tranne quindi fatta eccezione per l'aggettivo possessivo loro quindi questo loro che ha sempre bisogno dell'articolo per esempio in italiano dico il loro padre non posso dire loro padre il loro padre la loro madre eccetera eccetera bene allora ora per vedere se voi avete capito o meno andiamo a fare questo esercizio la domanda dice completa con l'aggettivo possessivo adeguato la prima frase la casa si trova a milano soggetto noi frasi numero due il professore di francese si chiama Alex soggetto voi frasi numero tre questa è moglie si è moglie si chiama Federica la quarta frase angelo ha una bella macchina la macchina è una ferrari rossa il quinto è l'ultimo esempio l'ultima frase come si chiama la scuola di Carlo e Alessandro domanda la risposta la scuola si chiama Federico Tozzi perfetto allora ora andiamo a correggere insieme in questo esercizio allora la prima frase la casa si trova a Milano soggetto noi quindi cosa diciamo bravissimi la nostra casa si trova a Milano allora qui abbiamo usato l'aggettivo possessivo nostra perché abbiamo come soggetto noi quindi nostra è un aggettivo possessivo femminile singolare perché il nome che indica questo aggettivo possessivo è casa che è un nome femminile singolare quindi diciamo nostra casa e qui abbiamo usato l'articolo determinativo se guardate bene perché perché casa non fa parte dei nomi di famiglia e quindi ha bisogno dell'articolo determinativo perfetto frasi numero due il professore di francese si chiama Alex soggetto voi allora che cosa dobbiamo dire bravissimi quindi diciamo il vostro professore di francese si chiama Alex quindi abbiamo usato vostro perché il soggetto è voi vostro è un aggettivo possessivo al maschile singolare perché professore è un nome maschile singolare e abbiamo usato anche l'articolo perché giusto bravi perché professore non fa parte dei nomi di famiglia o di parentela la terza frase questa è moglie si è moglie si chiama Federica allora qual è la risposta giusta? bravissimo quindi questa è tua moglie la risposta si è mia moglie si chiama Federica allora qui abbiamo usato l'aggettivo possessivo tua e mia perché il nome che indica questo aggettivo possessivo è un nome femminile singolare e perché non abbiamo usato l'articolo? giusto? bravissimi perché moglie fa parte dei nomi di parentela quindi non è come professore, non è come casa, moglie, come figlio, come fratello quindi non ha bisogno dell'aricolo determinativo perché? perché è un nome di parentela al singolare, moglie perfetto, ora passiamo alla quarta frase angelo ha una bella macchina la macchina è una ferrara rossa quindi la macchina di chi? la macchina di angelo, quindi di lui allora qual è l'aggettivo possessivo che dobbiamo metterci? bravi la sua macchina cioè la macchina di angelo è una ferrara rossa qui abbiamo usato sua perché abbiamo il nome macchina che è un nome femminile singolare perciò anche l'aggettivo possessivo sua è al femminile singolare abbiamo usato l'articolo perché? bravissimi perché macchina non fa parte dei nomi di famiglia la quinta è l'ultima frase come si chiama la scuola di Carlo e Alessandro? la scuola si chiama Federico Tozzi allora dove è il soggetto in questa frase? come si chiama? la scuola di chi? di Carlo e Alessandro e quindi sono due quindi parliamo di loro Carlo e Alessandro quindi diciamo bravo, giusto la loro scuola cioè la scuola di Carlo e Alessandro si chiama Federico Tozzi e qui abbiamo usato anche l'articolo determinativo perché scuola non fa parte dei nomi di parentela e quindi loro è un aggettivo possessivo alla terza persona plurale perché la scuola è di Carlo e Alessandro loro allora qui ragazzi finisce la nostra lezione vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima arrivederci